Nei primi anni 70 nacquero in molte zone d'Italia diverse comunità di hippie, persone che avevano recepito e fatto proprio il messaggio proveniente dalla controcultura allora in voga in America, pace ed amore. In breve tempo alcune centinaia di persone di diversa estrazione e con diversi desideri si erano ritrovate a vivere in comuni sperse fra i boschi, ad ore di cammino dal più vicino avamposto civile, piuttosto prevedibilmente così come in America, fin da subito non aveva funzionato. Si erano presto scontrati con le enormi difficoltà del vivere uno pseudo comunismo utopico senza comodità e senza aspirina. In breve tempo quasi tutti erano ritornati all'elettricità e dall'acqua corrente. Prima se ne andarono quelli che si erano imbarcati nell'impresa con la convinzione di scopare facilmente, poi quelli che avevano semplicemente visto troppe volte il film su Woodstock. Infine erano partiti quelli alla ricerca di erba facile. Grazie a tutti. 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 Non mi disse nulla e neppur io aprì bocca. Ci sedemmo davanti ad un fuoco e ci guardammo per un tempo indefinito. Infine si alzò. Mi sorrise brevemente e scomparve. Mi incamminai nuovamente verso la comune dove trovai Elena, la mia ragazza. Piangente e disperata. Mancavo da due giorni a sentir lei. Io ricordavo di essere stato via un pomeriggio. Tornai a casa alquanto turbato. Pensavo alle leggende sugli uomini rapiti dai folletti. Od erano fate? ma nel ventunesimo secolo non potevano che essere alieni casomai. Poco prima della guerra passai per caso da queste parti ed ebbi il forte impulso di sapere che fine avesse fatto quella strana persona. Con enorme difficoltà trovai la comune, ridotta ormai a soli tre nuclei familiari e... Sì, lo ieti era sempre in giro da quanto dicevano. Andai a cercarlo. Stavolta pensai di averlo sorpreso salvo vederlo alzare un braccio per salutarmi mentre mi dava la schiena, accovacciato vicino ad un falò. Mi sedetti. Mi parve non fosse invecchiato di un giorno. La cosa mi sembrò normale. Mi offrì una tazza sbroccata da cui bevi senza chiedermi cosa contenesse. Poi non so. Forse mi addormentai e sognai. Forse. Vidi la guerra. Vidi mezza Roma in fiamme. Vidi il po' tinto di rosso. Osservai viadotti crollare e lunghe file di profughi. Vidi treni presi d'assalto da una povera umanità. Mi svegliai ore dopo, sudato, sicuro di essere stato drogato. Ero arrabbiatissimo, proprio incazzato nero per questo scherzetto. Lui era lì, scosse leggermente la testa e parlò. Quando sarà il momento, ti prometto che lo farò. Poi si alzò e se ne andò. Strano, quando mi aveva parlato per un attimo mi era parso diverso. E quella voce, così inaspettatamente giovane, tornai alla mia automobile lontana, ripromettendomi di non tornare mai più da quelle parti. Mesi dopo iniziò tutto. riguardai la cartina. Lui era lì, a non molte ore di cammino, più o meno dentro il nostro territorio. Ed aveva promesso di fare qualcosa, qualcosa per me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.